Carissimi, buongiorno e un buon giorno. Buon risveglio in questo venerdì del 14 maggio. Grazie per la compagnia che ogni mattina mi fate, ma soprattutto il mio desiderio è che queste brevi meditazioni possono fare nascere in voi il desiderio di conoscere sempre di più il Signore Gesù. La meditazione di stamattina è tratta dal Vangelo di Giovanni al capitolo 7, versetto 38 e si intitola Vita che si diffonde. Leggiamo. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Siamo dinanzi a una promessa straordinaria che ci ha fatto il nostro Signore. E se noi pensiamo per un attimo alle acque di un fiume, ci rendiamo conto di come esse raggiungono le regioni lontane, regioni che non hanno più nulla a che vedere con quelle della sorgente. E allora se noi abbiamo ricevuto la sua pienezza, dice Gesù, per quanto possa essere limitata la misura visibile della nostra vita, da noi sgorgeranno quei fiumi d'acqua viva che giungeranno come benedizioni fino all'estremità della terra. non siamo noi ad aver creato il fiume o ad aver suscitato il suo corso. Questa è opera di Dio. Che voi crediate, dice il Signore Gesù. È raro che Dio permetta ad un'anima di vedere la benedizione che essa comporta intorno a sé. Se ritorniamo a pensare per un attimo al fiume, abbiamo un'illustrazione meravigliosa. Il fiume scorre continuamente. E quando il fiume scorre, supera tutte le barriere che vi sono attorno. Va per un certo tratto in maniera costante. E poi, quando incontra un ostacolo, che fa? Cerca un'altra via di fuga. Anche se ne è frenato, trova un'alternativa. E anche se sembra scomparire alla nostra vista, lo rivediamo ricomparire più forte di prima, magari chilometri e chilometri dopo. Possiamo vedere che Dio si serve della vita di alcuni. Ma tante volte, quando pensiamo alla nostra vita, se sorge qualche ostacolo, ci sembra forse che non serviamo più a niente. E allora è in quel momento che devi rivolgerti alla vera sorgente. E Dio ti farà aggirare l'ostacolo. Oppure addirittura lo toglierà completamente di mezzo. Il fiume dello Spirito di Dio, devi sapere, supera tutti gli ostacoli. Non fissare mai lo sguardo sull'impedimento. Non fissare mai lo sguardo sugli ostacoli. Perché il fiume dello Spirito Santo supererà tutti gli ostacoli. Se ti manterrai direttamente unito alla sorgente, vedrai cose straordinarie. E allora ti invito a non permettere mai a nulla di intromettersi fra te e Cristo. Si tratti di emozioni, si tratti di esperienze. Niente e nessuno ti deve separare dall'unica sorgente grande e sovrana, che è il Signore Gesù. Pensiamo a questi fiumi, che sono così benefici per gli altri e che vanno così lontano. Sappiamo che essi si arricchiscono d'acqua. E si arricchiscono d'acqua in noi. Il Signore ci ha aperto la mente. Il Signore ci ha dato quella verità meravigliosa. Ed ogni verità meravigliosa che ci ha rivelato sta a indicare la potenza del fiume che Egli farà sgorgare in noi. Se credi in Gesù, scoprirai che Egli ha alimentato in te impetuosi torrenti di benedizione per tutti coloro che ti staranno accanto. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal tuo seno, che tu possa andare a questa sorgente e vedrai quello che il Signore potrà compiere nella tua vita. Che Lui ti possa benedire. Amen. Che Lui ti possa benedire.